Si discute molto a Bassano della centralina idroelettrica sul Brenta, lei cosa ne pensa? Io sono contraria, credo che una centralina così a ridosso di un monumento importante con tutta la delicatezza del ponte in questo periodo sia la cosa più sbagliata. Si deve utilizzare l'acqua, si può utilizzare l'acqua, ma bisogna anche capire come, quando e evidentemente se vi è un'utilità. Il Comune si è espresso già con un parere contrario a quest'opera, adesso la decisione spetterà in Regione e lei porterà la voce dei contrari e della città di Bassano a Venezia? Certamente sì, perché c'è stata anche una forte presenza di cittadinanza contraria a questo intervento. C'è una commissione tecnica che deve valutare e quindi sarà sul piano tecnico che dovremmo argomentare per stabilire ovviamente se questa centralina debba o non debba essere fatta.